Buongiorno ragazzi, riprendiamo dove ci eravamo lasciati con la prima parte della seconda guerra mondiale anche se qualcuno di voi sicuramente ha già affrontato questi argomenti ma rivederli non fa assolutamente male ci eravamo lasciati con le prime mosse delle truppe tedesche sul fronte occidentale sul fronte orientale avevamo visto che grazie al patto Molodov-Ribbentrop la Polonia viene spartita tra le due grandi potenze quindi la Germania nazista e la Russia sovietica e oltre alla Polonia a pagarne le spese sono la Finlandia e le Repubbliche Baltiche che vengono occupate dalla potenza dell'Unione Sovietica sul fronte occidentale ovviamente è lì che si concentrano le successive mosse perché questo? Perché Hitler capisce che la Francia è a portata di mano in termini territoriali e soprattutto ha militarizzato la linea Maginot, quindi questa linea di confine attraverso tutto il confine franco-tedesco che è facilmente aggirabile violando la neutralità dei paesi appena a nord ovvero l'Olanda, il Belgio e il Lussemburgo ed è proprio così che fanno le truppe tedesche e in pochi mesi arrivano in Francia, occupano Parigi e la Francia è praticamente sconfitta però perché non si aspettava, erroneamente, visto come è andata la prima guerra mondiale questo aggiramento Cosa succede in Francia dopo l'occupazione nazista? La Francia viene sconfitta e la parte settentrionale, quindi la parte dove si trova Parigi viene occupata dalle potenze, dalle forze naziste, dalle forze dell'asse e quindi appartiene ormai alla Germania La parte invece meridionale, nella parte meridionale viene sancita una nuova entità politica che si chiama appunto Repubblica di Vichy Vichy sarebbe la capitale dove viene insediato il governo e il governo viene affidato al maresciallo Petain Il maresciallo Petain è un uomo di destra, un militarista che porta avanti un governo collaborazionista quindi da una parte, la parte nord è a tutti gli effetti occupata dalla Germania nazista la parte invece meridionale c'è un governo che comunque è filo nazista Sul fronte orientale la grande resistenza dei finlandesi non permette all'Unione Sovietica di conquistare, annettere la totalità del territorio Il passo successivo ovviamente dopo aver annichilito in pochi mesi la Francia è quello da parte della Germania nazista ovviamente di andare contro l'altro nemico il principale nemico ovvero l'Inghilterra Sul fronte orientale abbiamo visto era tutto fermo per il patto tra la Germania e l'Unione Sovietica sul fronte occidentale la Francia era già annichilita si pensa quindi alla battaglia d'Inghilterra La battaglia d'Inghilterra viene scatenata da Hitler per tutta l'estate del 1940 si tratta di una battaglia prettamente aerea e navale proprio appunto per la distanza territoriale per la presenza del mare tra la Germania e l'Inghilterra Per la prima volta le truppe naziste che sembravano invincibili fino all'estate del 40 subiscono una sconfitta o meglio una non vittoria in quanto le truppe non riescono a conquistare l'Inghilterra ma non hanno un grande impatto in termini di guerra quindi la guerra non viene decisa per la battaglia d'Inghilterra assolutamente ma sicuramente il primo arresto che le truppe naziste subiscono durante la seconda guerra mondiale Cosa succede in Italia? L'Italia l'avevamo lasciata con la sua dichiarazione di non belligeranza La dichiarazione di non belligeranza era una strategia strategia dovuta all'impreparazione della guerra dell'esercito per la guerra ma al tempo stesso ovviamente il patto d'acciaio tra l'Italia e la Germania implicava dei obblighi morali politici da parte dell'Italia nei confronti della Germania questi obblighi vengono poi concretizzati nel giugno del 40 il giugno del 40 è la data in cui l'Italia entra in guerra L'Italia parteciperà ovviamente su alcuni fronti quindi i fronti già tranquilli, già pacificati, controllati come quello francese l'Italia non entrerà a farne parte si concentrerà soprattutto sui fronti mediterranei quindi sulle colonie, su fronte africano quindi fronte mediterraneo-sponda africana e poi porterà avanti l'invasione della Grecia vi ricordo che l'Italia aveva già annesso, invaso l'Albania nel 39 con grande facilità per le questioni che avevamo già affrontato in classe quindi queste sono le prime tappe dell'Italia quando entra in guerra Cosa succede nel 1941? Nel 1941 abbiamo la svolta della guerra la svolta della guerra perché? soprattutto per i primi due punti elencati nelle slide il terzo era chiaramente, non è proprio l'inizio del genocidio ma è l'inizio di quella sistematica macchina di sterminio concentriamoci sui primi due punti noi avevamo lasciato il famoso patto Molotov-Ribbentrop che assicurava reciproca protezione, reciproca tranquillità sul fronte orientale bene, la Germania nazista nel 1941 viola tradisce questo patto e muove un'aggressione alla Russia qui definita Russia ma comunque sapete si tratta di Unione Sovietica questa operazione viene chiamata Operazione Barbaross contemporaneamente il Giappone attacca in maniera inaspettata la base americana nel Pacifico di Piralbor e questa cosa ovviamente sancirà la risposta pronta dei Stati Uniti andiamo avanti si comincia a parlare di guerra mondiale quando anche gli Stati Uniti successivamente entreranno in guerra andiamo con ordine nel giugno del 1941 Hitler attacca la Russia la famosa Operazione Barbarossa l'operazione di conquista, di attacco al cuore dell'Unione Sovietica si rivelerà poi una sconfitta perché? Andiamo con ordine inizialmente l'Armata Rossa cerca di optare per una strategia molto vecchia in termini militari, ovvero quella della ritirata aveva dato già i suoi frutti contro Napoleone più di un secolo prima comincia a dare i suoi frutti anche con le truppe naziste quindi inizialmente le truppe naziste sfondano le truppe sovietiche in ritirata incominciano a conquistare territorio semplicemente successivamente rimangono impantanate non soltanto per l'arrivo dell'inverno e del clima rigido russo ma anche per la difficoltà oggettiva di comunicare con la retroguardia di avere approvvigionamenti militari, approvvigionamenti di cibo eccetera eccetera quindi le truppe tedesche e anche italiane perché anche italiani parteciperanno ormai ad alleati di Hitler alla campagna all'operazione Barbarossa rimangono bloccate in suolo russo da qui in avanti quindi Stalin porterà avanti una riconquista estremamente dura ovviamente Stalin si alleerà con le forze alleate in funzione anti-nazifascista ed è qui che abbiamo poi l'intervento americano l'intervento americano abbiamo già visto è la pronta risposta del governo Roosevelt all'attacco giapponese alla base americana di Pyralbor nel Pacifico il 14 agosto del 41 Roosevelt quindi presidente americano e Churchill presidente inglese stilano la carta atlantica e da qui abbiamo la famosa frase gli alleati, gli alleati sono loro e da qui che nasce la compagine degli alleati contro il nazifascismo la carta atlantica prevede alcuni punti un po' come avevano fatto i famosi 15 punti di Wilson anche qui abbiamo dei punti ben precisi primo cooperazione tra popoli rinuncio all'uso della forza e soprattutto l'idea ideologica quindi l'impianto ideologico di questa carta ovvero combattere il nazifascismo quindi sia per Churchill che per Roosevelt i principali nemici erano ovviamente Hitler e Mussolini che erano saldamente al potere in buona parte dei territori europei e non accennavano a diminuire le conquiste il 1943 è un ulteriore anno importante perché? perché nel 43 abbiamo innanzitutto la cosa estremamente importante la resa dei tedeschi quindi dei nazisti a Stalingrado nella famosa battaglia di Stalingrado la famosa resistenza di Stalingrado ovvero dopo un iniziale sfondamento dopo una successiva ripresa da parte delle forze sovietiche i tedeschi perdono definitivamente a Stalingrado quindi una città nella Russia meridionale una città industriale l'attuale Volgograd e si devono e sono costretti a ritiro sul fronte africano dove l'Italia era fortemente impegnata ovviamente coadiuvata dalle forze naziste il generale americano Eisenhower costringe le forze dell'asse ad abbandonare l'Africa quindi sarà un ambito che affronteremo a parte anche lì quindi le truppe nazi fasciste sono costrette a ritiro lo stesso avviene sul fronte del Pacifico dove gli americani bloccano l'avanzata giapponese quindi il 43 è l'anno in cui la guerra prende una strada totalmente diversa quindi fino al 41 forze nazi fasciste sono praticamente inarrestabili col 43 le cose cambiano cambiano soprattutto dove? cambiano soprattutto in Italia perché? perché in Italia abbiamo lo sbarco del 43 lo sbarco degli alleati avviene in due fasi abbiamo ovviamente la prima fase che è la fase dello sbarco in Italia che viene nel 43 precisamente in Sicilia una terra particolare quindi non è una scelta casuale e da lì inizia la risalita degli alleati per andare a riconquistare l'Italia nel 44 invece abbiamo il famoso sbarco in Normandia nel giugno del 44 il generale Eisenhower con un'operazione Overlord effettua lo sbarco in Normandia quindi in Normandia stiamo parlando delle regioni atlantiche della Francia dall'in avanti l'esercito americano comincerà a conquistare gradualmente tutte le parti dell'Europa occidentale quindi soprattutto la Francia il Belgio l'Olanda dalla parte orientale invece saranno i russi a fare la loro parte e conquisteranno via via Polonia saranno i primi a entrare ad Auschwitz saranno i primi ad arrivare a Berlino e saranno dinamiche che affronteremo successivamente lo stesso vale per il caso della Jugoslavia che verrà liberata dal comunista Tito dopo una guerra civile tra nazionalisti e comunisti che affronteremo successivamente la fine della guerra la fine della guerra l'abbiamo visto nel primo video è ovviamente il 1945 perché il 1945? perché tra lo sbarco in Italia e le dinamiche legate poi alla guerra partigiana che affronteremo e lo sbarco in Normandia ci sono numerosi avvenimenti quindi non è facile liberare un intero continente ci vuole circa un anno quasi due la fine della guerra comunque coincide con la resa della Germania la resa della Germania viene firmata nel maggio del 1945 poco dopo il suicidio di Hitler avvenuto presumibilmente nel bunker berlinese quando la guerra era persa e quando ormai i russi avanzavano da est e gli alleati avanzavano da ovest l'ultimo decreto varato è l'ordine Nerone che consiste nella distruzione totale non soltanto di tutte le prove legate al regime nazista non soltanto dei campi di concentramento ma vuol dire proprio un auto-annientamento per non lasciare traccia delle dinamiche belliche nel 1945 ovviamente dopo ogni guerra seguono le dinamiche legate alla pace che poi apriranno le dinamiche storiche nei confronti della guerra fredda che affronteremo in un altro capitolo nel 45 febbraio viene già firmata la pace di Yalta molto importante la conferenza di Yalta in Crimea l'attuale Ucraina barra Russia Roosevelt, Churchill e Stalin quindi i tre grandi statisti che si approcciano a vincere la guerra firmano la pace e dichiarano alcune cose che poi daranno un fortissimo imprinting alla storia europea e mondiale dei decenni successivi